Musica Lo staff del TLA non si ferma mai dopo la preparazione fisica Musica Musica Siamo qui, nel silenzio delle colline piacentine Musica Presso? Presso l'azienda vinicola di Visconti Massimo per equilibrare la parte interiore quindi la nostra anima aiutati da un prezioso bicchiere del famoso vino da meditazione Conosciuto? Meglio conosciuto come il Vin Santo di Vicoleno Ciao Nicola Ho spiegato che siamo qui a vostra cantina grazie per l'ospettalità stiamo pasteggiando con i salumi locali di loro produzione Nicola Visconti il figlio del proprietario della cantina che ci spiegherà la storia del Vin Santo è una storia molto antica si va al 1700 producevano i nostri prati all'interno del borgo incantato di Vigoleno e questa produzione era molto minima e anche oggi è molto minima a livello di quantità però la qualità è buonissima veniva fatto invecchiare e viene fatto invecchiare ancora con il vecchio metodo è fatto passare sui grattici per tre mesi poi viene tocchiato la settimana santa che precede il Natale e viene poi dopo fatto decantare per una settimana o due che è il metodo più naturale per pulire il vino e poi dopo viene fatto messo in botticelle di rovere di cinque anni per cinque anni minimo e lasciato lì lasciato riposare e poi dopo ottimo ottimo vino da meditazione lo prendo anch'io vi facciamo vedere anche la bottiglia che il nostro amico Massimo ci sta offrendo poiché questo è un vino particolare di questa zona lo porteremo alla forte avventura insieme a noi al prossimo Talent Lab ciao alla prossima ciao ciao